Ehi, ehi, quanto baccano! Buongiorno, signori. Siamo Rosmarina, Pipì e Pupù, i cercatori del MAPÀ. Il MAPÀ ha composto le musiche di un grande concerto d'opera. Oh, saranno celestiali! Quando le potremo ascoltare? Quando la Filarmonica degli Animali del Bosco eseguirà il grande concerto di Ferragosto. Sì! Ma... ma... sono scomparse tutte le note. Vi ricordate cosa ha detto la voce prima? Le note sono attratte da chi canta. Il padrino Drosselmeier! Bambini cari, vi ho portato il mio regalo. Dove sei sì tu là? Dimmi tu cosa vuoi. Dove vai? Vengo a prenderti. Ehi, nella storia lo schiaccianoci è molto coraggioso, sai? Invece lui ha molta paura. Questi tre bocconcini sono la mia cena. Questo non è il mare che conoscevo! Questo mi fa paura! Il nuovo film di Enzo D'Alò. Un misterioso viaggio nella musica. Pipì, pucù e rosmarina in... Il mistero delle note rapite. Il 16 novembre, nei cinema. Il film di Enzo D'Alò è un film di Enzo D'Alò.